buongiorno buongiorno e bentrovati la storia di oggi è la vera storia del brutto anatroccolo di nicola brunialti e ursola bucer per lapis edizioni c'era una volta un anatroccolo che era convinto di essere brutto e se ne stava sempre solo a specchiarsi nel laghetto sognando di diventare un cigno come diceva la fiaba tutti gli animali della fattoria lo prendevano in giro dicendogli che non sarebbe mai diventato un cigno anatroccolo era e anatroccolo sarebbe rimasto un giorno che era più triste del solito decise di allontanarsi da casa a passo svelto si inoltrò nella foresta e incrociò decine di altri animali che non aveva mai visto prima per primo incontrò l'elefante che era infelice per le sue orecchie sono troppo grandi disse con una lunga strombazzata di proboscide e subito si nascose dietro alle orecchie come dietro un paravento per seconda incontrò la giraffa guarda che collo lungo che mi ritrovo nessuno è più brutto di me gli disse scotendo la testa sconsolata e poi si fece un nodo al collo per farlo sembrare più corto dopo la giraffa fu il turno del rinoceronte guarda che corno che ho ma ti sembra giusto avere un orrore simile in mezzo al muso finito di parlare il rinoceronte corse a nascondersi dietro a un fitto cespuglio dopo il rinoceronte l'anatroccolo incontrò la signora eppopotamo lei sembrava la più disperata di tutti come sono grassa non posso uscire dall'acqua senza che tutti ridano di me disse e poi scoppiò a piangere come una fontanella avanzando nella foresta l'anatroccolo incontrò la iena la talpa il facocero e il bufalo e tanti altri animali tutti tristi allo stesso modo sembrava che nessuno fosse contento del proprio aspetto esattamente come lui alla fine della giornata quando il sole stava ormai tramontando il piccolo anatroccolo si avvicinò a uno stagno e si sedette sulla riva con il musetto triste e le zampette a mollo poco più in là c'era un grosso rospo che se ne stava tranquillo a prendere il sole su una foglia di ninfea anche tu sei triste gli domandò l'anatroccolo e perché dovrei gli rispose l'altro perché non ho mai visto nessuno più brutto di te ma tutti i rospi sono fatti così non sogni di essere baciato da una principessa e trasformarti in un principe per andarmene in giro tutto il giorno con la calzamaglia e la parrucca bionda no grazie ma saresti bello ribatte l'anatroccolo no sarei ridicolo perché non sarei più me stesso come un cammello senza gobbe o una tartaruga senza guscio o un tricheco senza zanne detto questo il rospo si tuffò nell'acqua e sparì ma il piccolo anatroccolo era già lontano ora sapeva cosa fare in tutta fretta corse all'emporio della foresta e comprò tutto quello di cui avevano bisogno poi come prima cosa ritornò dalla signora eppopotamo e le regalò un bellissimo vestito nero che metteva in risalto le sue curve e un cappellino intonato vestita così la signora eppopotamo si sentiva bellissima poi andò dal rinoceronte e gli donò una grossa palla rossa che l'animale tenne perfettamente in bilico sul suo corno mostrando a tutti le sue doti da equilibrista dopo il rinoceronte l'anatroccolo incontrò la giraffa a lei regalò un bellissimo fular che l'altissima signora indossò con estrema eleganza e per ultimo l'anatroccolo incontrò l'elefante e gli dipinse due meravigliose ali di farfalla sulle orecchie tutti gli animali della foresta vennero a vedere quel capolavoro di pachiderma ora che tutti erano felici il piccolo anatroccolo poté tornare alla fattoria gli animali quasi non lo riconobbero era lo stesso di quando era andato via eppure era così diverso adesso non aveva più bisogno di diventare cigno per essere felice ci vediamo domani ciao ciao